Grazie a tutti. Io credo che le insidie di questa gara sono rappresentate innanzitutto dall'orgoglio di una squadra che in casa vorrà chiudere nel migliore dei modi. Noi che veniamo da una battaglia durissima e anche amara come quella di Pesaro, dobbiamo lottare con tutti i nostri nervi e con tutte le nostre forze perché sia per acquisire il primo posto, sia per un eventuale barrage per il secondo eventuale playoff di quarta e di finale, sono importanti tutti i punti che riusciremo a mettere in classifica. Però sarà una partita dura, una partita contro una squadra che già qua a Varese ci ha messo in grossissime difficoltà e che quindi per noi, soprattutto per l'aspetto fisico e dell'intensità che loro mettono in campo, non sarà per nulla facile da affrontare. Nella partita di andata qui a Varese ci misero in difficoltà con gli esterni e nella posizione quattro dove praticamente loro possono alternare giocatori sia che attaccano bene il canestro sia molto bravi sul perimetro, tra l'altro giocò molto bene Barges che è una vecchia conoscenza del nostro campionato. Non fu della partita il loro centro titolare che probabilmente, almeno di sorprese dell'ultima ora, sarà in campo e è un centro molto grande, grosso, fisico e quindi questo sarà una variabile che affronteremo al momento, visto che qua a Varese non abbiamo avuto modo di testarlo come qualità, questo giocatore. Però, ripeto, è una partita estremamente insidiosa che dovremo affrontare prima di tutto dal punto di vista emotivo in maniera molto decisa e dal punto di vista fisico resistere perché sono in assoluto una squadra tra le più toste dal punto di vista dell'ingombro, della taglia che abbiamo incontrato in questa seconda fase di FIBA Europe Cup.